Non lo crede, è stato incredibile. Grazie per avermi tirato fuori di lì. Grazie a te per l'avventura. E dimmi, tu chi sei? Vieni da palazzo, vero? Di tuoi abiti, gioielli, non sono di un servitore, o meglio, non di uno qualsiasi. Sei un'ancella della principessa, vero? Incredibile. Sai cos'è incredibile? Agrabah, dovresti dire alla principessa di passare tra il popolo ogni tanto. Non mi è... non l'è permesso. Da quando la regina non c'è più, il sultano non le permette di uscire. Per paura, credo. Perché? Il popolo l'amava. E dei tuoi genitori cosa mi dici? Gli ho persi entrambi da piccolo. Da allora siamo solo io e Abo. È silenzioso, ma è un buon amico. Solo che a volte mi sento... Intrappolo. Già. Hai sentito? Devo andare. Hai il mio bracciale. Certo. Credo di averlo messo a buon. Era il bracciale di mia madre. Sei solo un ladro. Sono così ingenuo. Un camion. Rubo il pane, ma in fondo uno straccione, non mi sento proprio, ma solo che non vedranno quel nuovo uomo che è in me. Ah Abu, in alcuni momenti rubiamo e in altri no, e questo era decisamente il momento no, ma amico mio, mi hai dato una scusa per rivederlo.